Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPI-LI un chilometro di coda per lavori tra Impoli-Est e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze ed è chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze fino al 16 settembre. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sull'SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Chiusi e Firenze Sud sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 e la variante di Valico. Chiudiamo con il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!